Non si arrestano le difficoltà relative al nosocomio ospedaliero di Vallo della Lucania, in seguito all'approvazione del nuovo piano ospedaliero dell'Asla Salerno, che ha visto ridimensionati diversi ospedali comportando drastiche riduzioni per gli stessi, in particolare quelli di Agropoli, Sapri e Roccadaspide, la struttura sanitaria di Vallo della Lucania ha di conseguenza subito un sovraccarico degli utenti. Ciò genera molto spesso malumori e caos e non mancano le segnalazioni derivanti dalle problematiche che persistono nella struttura. Questa volta è toccato ad un uomo affetto da iperplasia prostatica, che nonostante avesse necessità di un'ecografia, il paziente si è visto prenotare l'esame diagnostico nel mese di aprile 2017. Così, non avendo trovato disponibilità di poter eseguire l'esame in tempi più ristretti nelle altre strutture della zona per via della sua condizione di invalidità e non potendo aspettare troppo a lungo, l'uomo è stato costretto a rivolgersi ad un centro privato nella zona per eseguire l'esame di cui necessitava in tempi più brevi. Continuano così le problematiche causate da tempi di attesa troppo lunghi, soprattutto per coloro che hanno la massima urgenza di eseguire determinati esami diagnostici.